ciao e benvenuto nella seconda puntata riguardante il camper questa nuova playlist che troverai nel mio canale youtube sarà una playlist contenente una serie di video come anche questo che stai per vedere che quindi riguarda diciamo persone che stanno utilizzando il camper da pochissimo quindi se tu non sei tra questi probabilmente trovo potrai trovare alcune di queste informazioni non necessarie importanti per te perché magari già riconosci però potrei andare avanti quindi dopo il primissimo approccio adesso parliamo di ok io ho il camper dove lo collego e come lo devo ascoltare ecco queste cose che sembrano apparentemente banali sono invece di un'importanza incredibile perché ovviamente molte persone molti diciamo neofiti soprattutto non si rendono conto di quello che ascoltano e magari lo giudicano male perché ovviamente collegano il camper nel posto sbagliato allora partiamo dal presupposto che il camper è un profiler come tale permette di creare e di poter utilizzare dei profili completi della tua catena del suono testata più cassa più microfono ed alcuni effetti quindi ad eccezione per esempio delle modulazioni dei riverberi dei delay eccetera eccetera quello che lui ti restituisce è questo quindi tu devi immaginare di essere ad esempio live e la tua chitarra con i pick up collegata a l'amplificatore testata cassa combo che sia più una catena di effetti non modulazioni unità di ritardo ma magari un overdrive ad esempio entra in un amplificatore testata e cassa e poi a secondo del cono che tu hai scelto di utilizzare del microfono che hai scelto di utilizzare di dove l'hai posizionato otterrai un determinato suono che non è quello che tu ascolti sul palco questo è un aspetto fondamentale ma è quello che ascolta la gente che fuori non è quello che tu ascolti sul palco che cioè il suono che fuoriesce fuori dal cabinet che tu stai utilizzando è una cosa ben diversa e quindi già qui potresti non avere il feeling giusto perché tu sei abituato ad ascoltare un suono e con il profilo ne senti un altro non è che uno è più bello è uno è meno bello sono due cose completamente parecchio differenti quindi potrei decidere se collegare il camper ad una vera cassa per il tuo strumento quindi una 4x12 piuttosto che una 2x12 una 2x10 una 1x8 e così via oppure potrei decidere di utilizzare il camper ascoltandolo direttamente con una cassa FR FR oppure ancora potrei utilizzare ad esempio l'altra possibilità che ti fornisce questa macchina meravigliosa è quella di non solo utilizzare i suoi cabinet o altri cabinet che tu puoi anche caricare attraverso anche il rig manager la chiavetta eccetera eccetera ma ti permetti anche di caricare e convertire l'impulse lier cioè l'impulse response quindi già come vedi le possibilità sono veramente innumerevoli per cui dove lo collego se lo vuoi collegare ad una cassa per chitarra allora devi andare nel menu output del camper posizionato sul pannello frontale oppure come vedi qui dal rig manager devi andare nel menu output dopodiché scorrere 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 fino a quando troverai la funzione monitor cab off questa è come vedi nel mio caso è disattivata perché perché io non lo utilizzo quasi mai collegato ad una cassa per chitarra ma nel 99 per cento dei casi è collegato via spdif o via xlr la mia scheda audio che ovviamente ha delle uscite monitor e io ascolto di là oppure l'ascolto incursi oppure ancora l'ascolto collegato alla mia edelash fr fr che è collegata a sua volta all'uscita monitor output del mio camper in questo caso quindi io utilizzo monitor cab off questa funzione disattivata come vedi è scura in grigio non è illuminata vuol dire che disattivata perché non lo collego a una cassa per chitarra se invece l'attivo posso ascoltarlo ha anche collegarlo quindi ad una cassa per il mio strumento allora qua devi sapere che non tutti i camper possono essere utilizzati in questa maniera che cosa vuol dire che i camper che siano o siano rack sono divisi in due categorie cioè head normale per intenderci quindi il camper con tutte le sue funzioni ma privo del finale nel mio caso invece come vedi io ho un profiler head power cioè con il finale di 600 watt di potenza in questo caso allora perché l'ho comprato così perché domani voglio utilizzarlo collegato a una cassa per chitarra per delle situazioni live eccetera 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 posso farlo diversamente non potrei farlo a meno che non aggiungo successivamente un finale al camper cosa che comunque puoi farlo però lo scopo di questo video è un altro è quello di capire come e dove lo collego se invece non ho il finale di potenza o non voglio collegarlo a una cassa per strumento basta tenere questa funzione disattivata che nel camper nel menu output trovi alla pagina menu output pagina 8 di 9 e in altro potrai scegliere se selezionare o deselezionare questa funzione comunque andando ancora avanti secondo lo scopo del di questo video parliamo un attimo di questa funzione il profiler quindi se in versione power sia amplificata ti permette di funzionare associato anche ad una cassa per chitarra e contemporaneamente di inviare attraverso le uscite output il suono di un profilo completo direttamente al banco del mixer in tal caso la casa che stai usando sul palco non necessita più di essere microfonata perché appunto sta inviando il suono già microfonato direttamente al banco mixer attraverso le uscite main output in questo caso quindi non devi usare la funzione del profiler che simula un cabinet virtuale il suono infatti sarà bruttissimo disattivando la funzione menito cab off questa è una funzione globale quindi vuol dire che se io ce l'ho disattivato ce l'ho attivata questa funzione non vale solo per il rig dove che sto usando in questo momento ma vale per tutti i rig è una funzione che ha globale quindi non funziona soltanto su un rig come possono essere magari altre funzioni potrei quindi anche utilizzare una cassa full range collegato all'uscita monitor output posta sul retro del profiler da usare come spia io per esempio faccio così quando sono live o ho bisogno magari di provare di farmi dei suoni eccetera eccetera posso collegare una cassa monitor output oppure due casse se voglio avere un'uscita stereo e mi faccio i suoni per provarli oppure se sono live posso utilizzare una cassa solitamente utilizzo una cassa fr fr la mia è della show collegata al monitor output del camper a un volume basso perché la utilizzo semplicemente come spia ossia per sentire effettivamente sul palco quello che sto realmente facendo non è come ascoltare quello che esce fuori da la cassa di una chitarra collegata a una testata è leggermente differente ti ripeto non si tratta di un suono più bello più brutto si tratta di due cose differenti devi semplicemente sapere capire che cosa stai veramente facendo detto questo si apre un secondo capitolo adesso che l'ho acceso e so dove e come lo devo collegare che profilo utilizzo bene questo sarà il nostro prossimo video